Mauro, finalmente è iniziato il campionato ed è iniziato bene, grazie a una bella vittoria. Sì, siamo molto contenti che abbiamo vinto la prima partita. Abbiamo fatto una buona partita, specialmente all'inizio, i primi due tempi. Avevamo tante occasioni, forse dobbiamo fare più gol lì, così alla fine loro vengono ancora. Alla fine siamo contenti che abbiamo vinto. Il terzo tempo, avete sofferto un po' di più, anche per colpa di un power play che non è ancora funzionato benissimo. Sì, il power play, non abbiamo fatto i gol, ma penso che avevamo un paio di occasioni. Forse dobbiamo fare un po' più facile, ma alla fine avevamo le occasioni, eravamo il vostro, come si dice, la zona. Penso che facciamo meglio l'altra volta, speriamo. Grazie alla Champions League. Voi avete già giocato delle partite ufficiali, il Davos invece no. Questo qua è stato un vantaggio per voi, soprattutto per quanto riguarda il ritmo? Sì, penso che non è male se non hai solo amichevoli. Se hai una partita o quattro partite che contano già un po', sicuro non è male. Nella prima partita, subito contro la tua ex squadra, è stata una partita speciale per te? Sì, è sempre speciale giocare contro le ex squadre, specialmente se la prima partita anche nella stagione è ancora più speciale. Alla fine sono molto contento che abbiamo vinto. Oggi Davos, domani Zugo, poi Berna, Lausanna. Un inizio difficile ma anche motivante. Sì, è sicuro difficile. Sapevamo già nell'inizio che vengono le squadre forti all'inizio e anche dopo. Sì, come detto, siamo contenti che abbiamo vinto la prima e vogliamo fare anche domani così.